buona giornata amici da massimo foghetti oggi lunedì 4 aprile 2022 iniziamo insieme una nuova settimana con la rassegna stampa vediamo cosa pubblicano oggi i giornali per quanto è accaduto nella giornata di ieri intanto vediamo qual è il santo del giorno oggi si festeggia santisidoro che era vescovo di Siviglia pensate era fratello di altri tre santi san fulgenzio vescovo di cartagine san leandro vescovo di Siviglia prima di lui e santa fiorentina santisidoro fu l'anima dei concili che si svolsero in spagna all'epoca dell'invasione dei goti fu un vescovo umile paziente misericordioso costruì monasteri ed edificò collegi tra i suoi discepoli ci furono addirittura altri due santi santi il defonso e sant brauglione insomma veramente una comunità di persone edificanti di santi da venerare questa mattina il sole è sorto alle 6 43 tramonterà alle 19 e 39 ma la mano le giornate si allungano e il cielo anche si rischiara vediamo dunque le previsioni del tempo e vediamo come la situazione sta evolvendosi verso una giornata all'insegna della variabilità sulle marche con sole alternato a molte nubi e qualche isolato piovasco sulla pennino i venti spireranno da una direzione di est e sud est sia all'interno che sulla costa le temperature usciranno dai 4 ai 12 gradi e stamattina abbiamo una novità per quanto riguarda il resto del carlino vediamo infatti che il giornale è carente non ha la pagina non ha le notizie locali non ha la pagina di pesaro infatti in un quadratino vediamo qua che a causa di un'agitazione sindacale dei giornalisti oggi il giornale esce in edizione ridotta al prezzo di un euro e ci scusiamo con i lettori afferma appunto il giornale quindi un'edizione ridotta sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda le notizie ma noi allora abbraffitiamo per dare un'occhiata alle notizie di carattere nazionale e purtroppo qui vediamo una fotografia molto significativa di quello che sta accadendo in ucraina crimini di guerra il genocidio di buca esecuzioni torture fosse comuni i soldati in ritirata hanno sparato per rabbia sui civili e vediamo qui una persona con le mani legate dietro la schiena che è stata uccisa direi quasi giustiziata e ci sono pagine e pagine all'interno che riguardano gli eccidi che si stanno compiendo in ucraina centinaia di cadaveri a buca che diventa anche un altro esempio della crudeltà umana zeleschi questo è un genocidio ha detto il presidente del paese dopo il ritiro delle truppe russe la scoperta del massacro dei civili è una nuova strebrenica per le strade i corpi abbandonati con le mani legate e un foro alla nuca quindi vedete come la crudeltà ha infierito su questi cittadini su questi civili lo strazio di fosse comune e qui vediamo un cittadino che se ne andava in bicicletta è stato appunto ucciso e il suo cane lo sta vegliando qua un'altra fotografia significativa vedete un cittadino che se ne andava con un sacco di patate aveva comprato aveva racimolato un sacco di patate a causa della grande penuria di genere alimentari che vige nel paese ma è stato ugualmente ucciso e qui vediamo un volontario che srotola un sacco dove appunto verrà messo il corpo di questo uomo e ancora ora lo zar punta su odessa pioggia di bombe per sfondare a sud e ieri i notiziari hanno veramente reso eclatante il bombardamento che c'è stato sulla località del mar nero dove hanno colpito dei stoccaggi di carburante di depositi di carburante e qui vediamo un giovane nei pressi del deposito di greggio colpito ieri vicino ad odessa la mia notte con gli agenti speciali nel buio a caccia di sabotatori russi vadim capo di un riparto ucraino passano informazioni al nemico ne abbiamo già presi 26 e in ucraina ci sono coloro che sono simpatetici all'annessione alla russia vediamo come la repubblica del non bas è veramente filo russa e quindi ci sono anche coloro che purtroppo sono traditori così vengono considerati appunto dall'esercito ucraino vabbè spostiamo il giornale e un'occhiata invece al corriere adriatico partendo dalle cronache locali vediamo la pagina di fano e vediamo come si parli con speranza che la situazione si risolva di stagione turistica littorale da ricostruire per l'estate appaltati lavori per 100 mila euro bolkestein o non bolkestein i concessionari di spiaggia si rimettono all'opera cercano di riqualificare le loro concessioni anche se non faranno più investimenti almeno per il momento a causa di quella spada di Damocle che incombe sulla loro testa per la fine delle concessioni e quindi la rimessa in gara appunto della concessione di spiaggia però almeno per questa estate si cerca di rimettere a posto tutte le spiagge in attesa che arrivino i turisti di turisti con il clima di guerra insomma non è che ne verranno tanti però insomma almeno i concessionari sperano nella presenza di italiani e a questo proposito ci sono anche degli interventi importanti per esempio l'amministrazione comunale ha avviato una gara per quanto riguarda il livellamento della spiaggia con un importo di 99.000 euro e quindi si sta procedendo a rimettere la spiaggia a livello dopo tutti i sommovimenti che si sono verificati durante l'inverno a causa delle mareggiate in questa fotografia si rivede benissimo il dislivello che è stato provocato dalla erosione nella zona dei bagni Carlo vicino alla diga foranea del porto dove addirittura l'acqua ha sgrottato sotto gli scogli mettendo in pericolo anche la stabilità della passeggiata dell'esipo che percorre sopra altri articoli a fondo pagina vediamo come il sindaco interviene con i rapporti con la regione Marche e rapporti che sono variabili per quanto riguarda la concordanza, la discordanza e addirittura anche le polemiche vediamo come non c'è una perfetta concordanza per quanto riguarda gli investimenti sulla sanità il sindaco dice va bene investire sulle strutture e sugli ospedali ma occorre poi metterci dentro le cose più importanti in questi contenitori ovvero medici e macchinari ovvero le strutture che servono poi per curare i malati e qui abbiamo dunque un parere divergente invece abbiamo un parere tanto e quanto positivo negativo per quanto riguarda l'accordo raggiunto sull'itinerario della ciclovia del Metauro dove ormai i tecnici delle ferrovie hanno certificato che l'itinerario progettato parallelamente ai binari della ferrovia metaurense non è possibile appunto realizzarlo mentre invece si dice sì alla proposta della regione che ha un itinerario variegato un po' vicino, un po' lontano dalla ferrovia e invece per quanto riguarda il sostegno ottenuto a Fano per l'arretramento della ferrovia adriatica allora qui c'è piena concordanza la regione ha accolto l'appello fanese che dice che Fano deve essere inserita in quel progetto che al momento privilegia soltanto Pesaro perché non si può privilegiare una sola località e danneggiarne altre per quanto riguarda questo importante provvedimento correttivi efficaci, velocità ridotta di 15 chilometri è quanto ha risposto l'assessore alla mobilità del comune di Fano Fabio Latonelli alle proteste dei residenti di Via Trave i quali hanno così lamentato che i correttivi posti dall'amministrazione comunale per ridurre la velocità sulla loro strada non hanno ottenuto il risultato in realtà questo risultato è stato ottenuto ha detto Fabio Latonelli perché dai rilievi effettuati prima e poi quelli effettuati dopo la realizzazione di questi correttivi la velocità è stata ridotta di 15 chilometri 15 chilometri secondo l'assessore sono importanti perché la media poi si aggira ora su dati veramente accettabili circa una quarantina di chilometri vediamo un attimo questo è il più preciso ecco sì ora la velocità è risultata a 43 chilometri all'ora per quanto riguarda la velocità percentile che tiene conto poi di diverse componenti mentre la velocità media addirittura è ancora più bassa sono 34 chilometri all'ora comunque non mancano poi degli eccessi come chi va di notte a 110 chilometri all'ora in una via intensamente abitata al furlo cantieri bloccati 15 giorni manca il materiale gli esercenti sono sempre più esasperati ormai si avvicina la buona stagione anzi siamo entrati nella buona stagione ma di turisti al furlo se ne vedono molto pochi perché? perché la viabilità è chiusa e in questa fotografia vediamo lo sbarramento che è stato realizzato nella strada che valica appunto questo passaggio tra gli appennini il programma dei lavori già slittato di un mese fino a luglio quindi si arriverà a stagione turistica inoltrata ebbene l'opera di dragaggio ovvero di messa in sicurezza della parete rocciosa dove insiste il masso pericolante al furlo ormai questa è stata completata gli operai in attesa dell'arrivo del materiale per installare le barriere riapriranno il cantiere lunedì 11 aprile dopo il fermo dell'intera scorsa settimana però insomma si inizia e quindi poi si prolungano i lavori fino a luglio giriamo ancora la pagina e arriviamo a San Costanzo a San Costanzo viene rilevato un grave incidente un SUV fuori controllo ha fatto tutto da solo sbanda cappotta si ribalta appunto e per fortuna per fortuna il conducente non subisce gravi conseguenze è un conducente miracolato il pauroso incidente si è verificato dopo le 7 di ieri all'ingresso del paese sono lievi ferite per il giovane alla guida un risveglio col botto veramente ieri mattina alle 7 7.30 all'ingresso di San Costanzo un SUV fuori controllo sbanda sale sul marciapiede travolge e abbatte la segnaletica e si ferma dopo almeno 200 metri cappottandosi in mezzo alla strada quasi miracolato il conducente un giovane di 28 anni residente a Cerasa che è stato estratto dall'auto con ferite di lieve entità ma con l'auto una SUV Nissan Qascai praticamente distrutta sul lato passeggeri insomma ha fatto tutto da solo non ha forse ho avuto un attimo di sbandamento di disequilibrio oppure non era in condizioni ottimali e si è ribaltato oltre 200 di corsa per aiutare l'Onfalos è una gara podistica questa che è stata recuperata una gara podistica solidale a sostegno dell'autismo è tornata appunto a Mondolfo sappiamo come nei giorni scorsi si è celebrata a livello internazionale la giornata dell'autismo è tornata dopo due anni di sospensione questa bellissima gara podistica di solidarietà per l'autismo si tratta di Onfalos Half Marathon una mezza maratona a Mondolfo e subito ieri in oltre 200 sono arrivati in uno dei borghi più belli d'Italia per prendere parte alla competizione la quarta edizione sorta dalla stretta collaborazione tra l'associazione Onfalos Autismo e Famiglie ed Avis intestata a Guido Tonnini il noto medico che è stato per tanti anni a Mondolfo è stato anche uno dei diciamo così dei sostenitori più convinti per quanto riguarda l'Avis a Senigallia a Senigallia ancora vandali in azione i vandali sono tornati sulla spiaggia hanno danneggiato uno stabilimento vediamo qui nella fotografia come questo supporto è stato completamente piegato probabilmente uno si è arrampicato sopra il supporto non ha tenuto e si è piegato comunque è stato compiuto un ride sul lungomare Mameli oggi ci sarà una riunione con il sindaco per stabilire regole e orari della Movida dunque danneggiato sabato notte un altro stabilimento balneare ed è il secondo episodio dopo quello avvenuto due settimane fa sulle lungomare Marconi questa volta i teppisti si sono spostati sulle lungomare Alighieri dove hanno addirittura rotto una struttura probabilmente dopo esserci si arrampicati il bagnino si è accorto ieri pomeriggio quando è andato in spiaggia a controllare una mara sorpresa dunque per quanto hanno danneggiato in maniera del tutto gratuita ma poi i danni sono reali economicamente parlando per quanto è avvenuto siamo già all'inizio di aprile pensate cosa può accadere poi nel futuro della stagione balneare vediamo anche la pagina di pesaro del corriere adriatico anzi passiamo prima da quella della regione perché abbiamo qui un articolo che riguarda le prestazioni di soccorso quelle che vengono fatte in emergenza quando arriva l'eliambulanza l'eliambulanza per intervenire ha bisogno anche delle strutture per atterrare nel modo più sicuro possibile va bene si può atterrare in un campo oppure in mezzo ad una strada ma ovviamente se esiste una elisuperficie le cose vengono condotte nel modo migliore il soccorso dal cielo è faste da Carpegna al cratere un tempo massimo di 25 minuti sono 44 le elisuperfici delle Marche in arrivo quelle di Iesi Benedetto San Benedetto e Senigaglia le elisuperficie per fare atterrare i voli di soccorso per i traumi più gravi nelle Marche appunto sono 44 comprese quelle per il servizio notturno e il tempo massimo di percorrenza che serve per raggiungere il comune di Carpegna è di 25 minuti senza differenza tra giorno e notte e in questo tipo di interventi la tempestività è tutto sappiamo come per esempio per certe patologie gravi come l'infarto arrivare sul posto in tempi brevi molto brevi è fondamentale e a questo proposito sono particolarmente interessate le realtà dell'entroterra dove non esiste un pronto soccorso nelle vicinanze a disposizione immediata cosa invece che servirebbe per prestare le prime cure a chi è colto appunto da queste malattie qui abbiamo anche una tabella vediamo in questo disegno l'eli soccorso in numeri abbiamo detto come sono 44 le eli superficie per l'atterraggio dei voli di soccorso presenti nella nostra regione 25 minuti e il tempo di percorrenza massimo per raggiungere il comune più lontano della nostra provincia ovvero il comune di Carpegna 7 le nuove eli superfici nell'area del cratere dove si è verificato il terremoto 3 le eli superficie previste invece a Iesi San Benedetto del Tronto e Senigaglia 1.170.000 euro sono le risorse degli SMS solidali per realizzare le 7 eli superfici e adeguare le 17 nell'area del cratere appunto nell'area del terremoto vediamo ancora le notizie che riguardano Pesaro sul Corriere Adriatico dove si parla del parcheggio di San Decenzio il parcheggio Bis alberi da abbattere per aprire il cantiere del San Decenzio Bis giù almeno 16 piante così il presidente dell'Asper Pieri ha identificato appunto i lavori da realizzare verranno comunque sostituite queste piante che verranno abbattute l'assessore Pozzi oggi incontra la ditta per definire il piano dei lavori il parcheggio a fianco al nuovo padiglione del cimitero di via Mirabelli giù appunto 16 alberi che verranno sostituiti con nuove piantumazioni e in questa pagina vediamo anche il cronoprogramma a febbraio è stato affidato a un professionista esterno il collaudo tecnico amministrativo dell'opera ad aprile quindi in questi giorni prima di fare partire il cantiere del nuovo parcheggio dovranno essere abbattuti gli alberi è stato appurato il comune comunque punta ad aprire l'area di sosta di via Mirabelli entro l'autunno e i posti che verranno messi a disposizione sono 200 il comune commissiona uno studio sulle strade troppo pericolose il report dovrà emergere dove sono le criticità per poi dunque permettere le condizioni di intervenire si tratta di uno studio specifico questo sulla sicurezza stradale delle strade comunali sia dal punto di vista della viabilità che del traffico in modo anche da poter valutare e programmare gli interventi mirati si cerca di stabilire quali sono le vie più pericolose quindi si tratta di redigere una priorità di intervento e poi soprattutto cosa fare per renderle sicure dunque è uno studio propedeutico di vitale importanza ancora sulla pagina di pesaro vediamo un progetto un progetto che riguarda Villa Fastigi si tratta di un progetto di carattere sportivo a Villa Fastigi la futura pesarello così è stato denominato questo progetto e il quartiere chiede una road map oggi alle ore 18 ci sarà un'assemblea pubblica con il comune residenti per un confronto sugli interventi in cantiere un'assemblea pubblica alla sede del circolo Arci di Villa Fastigi in programma alle ore 18 per confrontarsi appunto su questo progetto pesarello o meglio sulla nascita della cittadella del pallone grazie ad un maxi investimento pubblico privato con project financing a cui l'amministrazione comunale contribuisce con un milione e duecentomila euro ottenuti con un finanziamento dal credito sportivo baia la carica dei 500 contro la pioggia e il freddo il duathlon da spettacolo e nell'occasione è stato ricordato anche Marco Ragnetti morto in un incidente lo sport è sempre solidale con le persone che se ne vanno in maniera traumatica e poi vediamo un articolo di cronaca i proprietari sono usciti e una banda fa razzia in una villa della zona a mare i ladri hanno aperto con una smerigliatrice la cassaforte trafugando denaro oro e gioielli il colpo è venuto sabato sera in una villa lungo viale della vittoria sulla statale 16 in zona mare i ladri hanno preso gioielli preziosi come bracciali catenine orecchini ori e anche del denaro contante la manco è ancora da quantificare nell'esatto ammontare comunque si tratta di diverse migliaia di euro un bottino dunque sostanzioso con il quale la banda se n'è andata facendo perdere le proprie tracce insomma bisogna aumentare le condizioni di sicurezza apriamo anche la pagina di Vallefoglia dove si parla di biodigestore sappiamo come da una parte l'ASET persegue il suo progetto a Fano di realizzare un biodigestore mentre Marche Multiservizi ne fa un altro non c'è intesa tra le due entità sulla Vallefoglia biodigestore 1,1 milioni per i terreni ma chi pagherà le spese già sostenute è l'interrogativo che pone oggi il Corriere Adriatico l'associazione Diversamente sull'impianto a rischio il manager di Asa Tivoli cambiate progetto l'associazione Diversamente non perde le battute e replica immediatamente sulla pagina di Facebook alla notizia che il digestore anaerobico da 105.000 tonnellate di rifiuti dell'anno previsto a Talacchio potrebbe non essere realizzato nell'eventualità che non siano prorogati gli eco incentivi insomma ancora incertezza sulla realizzazione di questo impianto mentre per quanto riguarda l'impianto fanese ancora la commissione deve decidere sulle proposte che sono state avanzate dalle dite che hanno risposto alla pubblicazione alla richiesta di interesse da parte dell'amministrazione comunale e veniamo anche alla pagina di Urbino con i suoi collegamenti con la capitale con Roma si potrà andare a Roma nella modalità bus treno l'Onday lancia la soluzione studiata da Ami per un biglietto integrato fino a Fabriano insomma per un po' di strada si va in autobus poi si va in treno e comunque il biglietto dovrebbe essere unico l'istituzione di un biglietto integrato che dia la possibilità agli utenti di effettuare un'unica prenotazione per l'autobus di collegamento tra Urbino e la stazione di Fabriano di Fossato di Vico da cui poi poter prendere il treno fino alla capitale sappiamo poi come questo servizio sia importante e ancora oggi ci vogliono molte molte ore dalla nostra provincia per arrivare a Roma e speriamo che questo tempo venga ridotto vediamo ora la pagina dello sport e vediamo come le notizie che riguardano il calcio per l'Avis siano positive l'Avis si è imposta per 2 a 0 sul Montevarchi e quindi ha cancellato il brutto K.O. che ha subito con la Carrarese e vediamo anche il Fano calcio il Fano veramente le ha viste di tutti i colori nell'ultima partita con l'Aurora Alto Casertano che è la cenerentola della classifica Fano all'Inferno e ritorno ha vinto per 3 a 2 dopo essere in svantaggio per 2 a 0 una rimonta veramente che è eccezionale Alto Casertano in vantaggio per 2 a 0 fino all'inizio della ripresa poi Granata in 10 ne fanno 3 uno dietro l'altro è veramente è stata una entusiasmante partita e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno questa sera alle ore 20 e 30 su Occhio alla Notizia di Fano TV a risentirci a rispettare